Dare un contributo concreto alla città di Fano, con creatività, proposte e iniziative, ritornando ad essere attivi, con una presenza forte e determinante. Questo è l'auspicio della lista civica nuova Fano presentata ai cittadini e alla stampa. Oltre ad occuparsi dei temi del territorio, l'associazione focalizzerà l'attenzione anche sull'aspetto culturale, mettendo in programma convegni o incontri pubblici, trattando temi importanti di attualità o informando i cittadini delle iniziative che riguardano il territorio, con dei valori che caratterizzano, come dicono, l'area liberale moderata. La lista civica nuova Fano ha effettivamente proprio questo progetto, vuole essere un laboratorio di lavoro dove cittadini e competenza insieme lavorano, si occupano dei documenti, fanno progetti e quindi trasformano tutto questo qui come un grande aiuto per colui che poi è chiamato ad amministrare. La posizione della lista momentaneamente resterà autonoma, mentre diversi sono i temi e problematiche del territorio che affronteranno a partire dalla difesa della chiusura dell'ospedale Santa Croce, al tema della sicurezza pubblica fino alla riequalificazione del territorio. Quindi ci impegneremo a fondo, daremo il nostro contributo per poter sistemare alcune cose nella speranza che anche i cittadini ci accolgano e ci diano i consigli per poter operare nel territorio. Spazio infine ai giovani che, come afferma Pollegioni, sono di fondamentale importanza. I giovani hanno un ruolo importante, molto rilevante in questa lista civica Nuova Fano. Praticamente l'obiettivo della Nuova Fano è quello di avvicinare i giovani alla politica. Io tra i miei coetanei ho notato un senso di disgusto, quasi di repulsione nei confronti della politica, invece il nostro obiettivo è quello di cercare di avvicinare i giovani alla politica. Come lo facciamo? Lo facciamo tramite l'attività sul territorio. L'impegno che c'è dietro la distribuzione di volantini, di banchetti, dietro l'ascolto delle varie problematiche della cittadinanza è quello il senso più vero della politica e la Nuova Fano vuole trasmettere ai giovani proprio questo.